Poi vado a leggere dalle pagine interne, pagina 11, troppi debiti, suicida un altro imprenditore. A Roma secondo caso in tre giorni, il biglietto d'addio, la mia situazione è insostenibile. Abbiamo in diretta l'estensore Massimo Lugli, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Massimo. Allora Massimo, la situazione di questo ennesimo suicidio dovuto al lavoro? Eh sì, dovuto al lavoro e dovuto a una, sembra un debito con Equitalia che da 50 mila Euro era lievitato fino a 200 mila e questo è un artigiano con una piccola impresa, era, poverazzo, di sei dipendenti più due precari, ma irregolari hanno definito la gamba di commercio, che andava avanti da vent'anni con alterne fortune e adesso strangolato dalla crisi, si è trovato in una situazione evidentemente senza via d'uscita e ieri si è sparato con la sua doppietta. La cosa impressionante è che sembra che nessuno delle persone che gli erano vicino, non sappiamo i familiari perché non siamo riusciti a parlarci comprensibilmente, avesse intuito che il livello di disperazione stava passando quest'uomo, sembrava se la portava dentro con grande dignità. L'azienda aveva avuto la cassa integrazione per tre dipendenti e nel giornale scorso era in fallimento. Quindi una situazione che purtroppo è molto frequente tra gli artigiani e le piccole imprese del Lazio, non solo del Lazio ovviamente. Situazione molto difficile. Massimo, grazie per questo flash, questo commento. Lo leggiamo a pagina 11 della Repubblica. Ti ringraziamo, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.